hai visto? si è volato che? te lo posso aggirare il tuo vero? ma non te ne hai capito no è simpatico on si dice così puoi curare l'account a una persona? ma vedi che rischia la data per credenziali puoi rari c'è il power? si lo posso fare ma è vero? si no si si è rari soccato no vabbè allora te lo faccio no ma perché? no scherzo veramente non l'abbia data l'account comunque io ho 40 skin quanti? 200 200 skin 40 fra i 200 e i 40 mamma c'è ma sei serio? c'è uno per il cazzo ma perché si vai da solo? non è che vado da solo io spero che voi mi serviate ma voi per il cazzo vuoi? mi che d'amicozzino come ti vuol dire che io ero in jail come si pensa in jail? come si pensa in jail? mi dà le grege in jail? li hai toccato vero allora vuol dire che me ne prendo con la forza ti do ti do la mia email bene non è così una mail aiuto aiutateli ma lo sapete che sono nella merda? che mi stanno giocchinando? venite da aiutare aiutateli craccato aiutateli lama co duro lo shield io ho un pico promuotoro è anch'io mi si ma dove c'è uno che si fanno con l'ancelaggine ho tirato tipo 4 non muore non si può salvare non ci puoi salvare mi sta curando mi sta curando lo blocco lo blocco almeno muore o mi ha dato la kill che avevo tirato e mi sta curando e sta curando uno quando muore mi dai però ci sono tipo tre medici che si sono mica vengi con una bomba guarda quante luciole quante luciole ma non vedete raccogliere ma non c'è lei la skin di quello leader squadronica anche se lei ricorda fatto c'è chi ma non c'è chi ma sai che benedizione buono è meglio prendilo c'è pure tipo l'automira ma che è l'aug era l'augo viola che vicaranno scarseggiate cosa vai con quella che ti fa ma lei è passata direttamente lancia la granata con la geragio no non c'è davanti a lui non l'ho capito vai sta sotto sta qui sta qui lo sento sul macchone lo sento sul macchone no 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 sta lì dietro non c'è dietro non c'è il macchone di macchone non c'è ecco ecco qua dietro 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 sto cuore di macchone girati dentro un muro di macchone davanti a te davanti a te davanti a te davanti a te dove c'è dietro cadete ti vediamo ti vediamo il muro di macchone infatti ma poi ma poi ma c'è ma c'è ma c'è ma c'è 4 contro 1 no 1 contro 1 contro si 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 ha ragione perchè ha le cose che si sgomba sconda i peschi prendili levati i peschi levati i peschi ma non becce il mare fatti una piattaforma scelta e vincere non è che è il colpo non è che è il colpo ma lo potevi finire era fermo praticamente ma sarà una montagna più alta lasciatelo più caldo forse ma salta quando la vici chiuso chiuso chiusura no che sei la proposta la strada aveva fatto un muro di mattone mi sembra che no non è il tuo quello più alto la scala alta lì li vedi no non ce la fa madonna quindi come parto così sono in tre sono in tre no ha fatto quello là da solo lo c'è chi mi faccia no perfetto era il film intero perché poi finisce che rimane c'è da ciò ma che si muove un primo all'altro quello da sole è uno contro uno se andate poi aiuta altrimenti era ma mi senti fa ma hanno rianimato un'altra ancora ora siete insieme cazzo hanno ammazzato oh l'altro ha mortito uno spamma spamma che uno l'hanno attirato che è l'arriano lo rianimo lì sanno usare lo spara bombe lo spara un'embo che ritieni vai ora vai ora vai ora c'è che ero con il spara bombe lo sta curando uno è andato a terra uno mi fate per favore come dico io vabbè io non ho detto sto dicendo che no sai come è guarda come fa il cornroller 3.1 la jump è buona buona preferenza io ce l'ho detto che lo rianimavo un cazzo se ne cercherò una più possibile non 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 il bagulbo qui o 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 a capo sera usa lo spara che ti fa andare via lo spara che ti fa andare via bel nome usa lancia cazzo una percezione d'unità è a terra una terra una terra ma io ce l'ho più convinto di fare te ne va accendere la mappa se non ti pussa non li mandi via un po' No, 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 no. oh 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 mamma mia mi piace la am campa額 mi piace la mica mi piace